Il WWF Abruzzo presenta le richieste del comparto ambientale ai quattro candidati alla presidenza della regione in un dossier elaborato in vista delle regionali del 10 febbraio prossimo. Il documento 10 temi per un Abruzzo capace di futuro è stato presentato questa mattina in conferenza stampa Pescara presso la sede della Lega Navale Italiana. Nel testo del documento si chiede ai candidati, tra le altre cose, di riconoscere nei loro programmi la tutela ambientale come valore trasversale di cui tener conto nell'intera programmazione di governo regionale. Allora abbiamo fatto una scelta molto organica che va appunto partendo dalla biodiversità a scendere, abbiamo tutte le problematiche inerenti, le scelte energetiche, la tutela, la gestione del territorio, i rifiuti, dando un'organicità al tutto, puntualizzando, dando delle linee guida e soprattutto anche ricordando che ci sono tantissimi finanziamenti europei sul cambio di rotta, su un cammino verso la modernità. L'attuale amministrazione regionale ha approvato il piano sugli adattamenti climatici, ora questo piano deve diventare operativo con delle linee guida e dovrebbe essere una delle prime cose che fa la prossima amministrazione che vincerà. Punto uno del nostro documento è proprio la biodiversità. Chiediamo alla regione Abruzzo al futuro presidente della nostra regione che si doti di un piano, di una strategia per la biodiversità ovviamente collegata a quella nazionale. La biodiversità è la grande ricchezza della nostra regione ma va monitorata, va misurata ma soprattutto è importante che i dati raccolti su specie e habitat che sono di una valenza naturalistica straordinaria vengano poi comunicati in modo che ogni progetto, ogni iniziativa ma soprattutto ogni programmazione della regione tenga conto di questo grande valore e si adoperi per migliorarne la qualità.